Operazione delle fiamme gialle di Salerno per contrastare il contrabbando di tabacchi lavorati all'estero. Nel corso degli ultimi controlli, sempre più intensi, i militari del nucleo operativo di Salerno, in servizio presso il porto commerciale cittadino e nelle adiacenze dell'area dello scalo portuale, hanno sequestrato 20 chili di tabacchi privi dei contrassegni di Stato. I finanzieri, a seguito dei controlli delle merci in entrata e in uscita dal porto, hanno segnalato 5 soggetti ritenuti responsabili. Tra le sigarette sequestrate è anche le cosiddette chip white, vietate dall'Unione Europea perché particolarmente nocive.